tele durruti una televisione monolocale anzi in questo caso concettuale se un giorno dovessero invitarmi alla biennale di venezia come artista porterei una sola opera un monumento alla fotografia è un monumento alla povertà insieme l'immagine standard della persona cara fotografata al balcone le ragioni il rullino è per esterni e invece si riteneva che si potesse fotografare all'interno durante la festigiola mentre ardevano i candeline è un po per voler mostrare il cielo in questo caso è mia madre gemma politica che figura in questa foto che vuole avere il valore del monumento alla fotografia alla memoria in questo stesso luogo noi possediamo una fotografia dove accanto a mia madre si trovano mio padre mia zia gioconda e mio zio franco hanno morto tutti e tre lei è l'unica sopravvissuta e anche questo vorrà dire qualcosa della vita di quest'opera concettuale che fulvio abbate ha appena concepito tele durruti una televisione monolocale il tempo la morte ti hanno lasciata sola tele durruti una televisione monolocale se mi invitano alla biennale sarà questa l'opera che desidero portare tele durruti una televisione monolocale e in questo caso anche concettuale a